In che cavolo di modo può mai succedere che il mondo intero affondi, signor Genio? Cioè io mi immagino Vegap anche per esempio, mentre racconta il mondo affonda, parte pure la canzoncella della sirenetta In fondo al mar, in fondo al mar, il mondo finisce tra a poco, in fondo al mar Mentre i Musama sta lassù, noi cena andiamo sempre più giù e finiremo tutti insieme in fondo al mar E loro ridono, perché stanno pensando anche a una roba del genere Mi sa che è tipo passato un mese dall'ultima volta che abbiamo fatto una blind reading reaction di One Piece Qui su questo canale, è una cosa veramente allucinante ormai Oda si è messo d'accordo, sono passati 5 anni anche meno Oda si è messo d'accordo affinché noi che amiamo One Piece non dovessimo più parlarne Tant'è vero che io già so che settimana prossima c'è pausa Ma è finito il capitolo! Ma no! Ma come è finito? Ma vaffanculo, ma che scamba di merda! Ma come è finito così? Oh da basta! 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 Hai fatto il riassunto di 1114 capitoli! Non ne posso più Ma quando va avanti questa storia? Ma quando finisce? No voglio, non si può Non si può Non si può Ha fatto veramente lo spiegone Non ha spiegato un cazzo sui Non ha spiegato il perché è arrivato il terremoto Perché il mondo si sta inabissando Non ha spiegato niente dei 100 anni di vuoto Ho solo detto i 100 anni di vuoto Sono 100 anni di vuoto Cioè io lo capisco che la gente La gente non sa un cazzo del mondo di One Piece Di questa roba qua Non ce la faccio più Non ce la faccio più Non ce la faccio più Cioè io mi immagino la gente del mondo Dice ma che ce ne fotte di questo Joy Boy Di 800 anni fa E noi stiamo con le pezze al culo Il mondo si sta per anabissare C'hanno pure ragione Si può Mi rivolgo a te Tu Guardami negli occhi Ora Tu sei uno di quelli Che questo non l'ho ancora preso E non l'ho ancora Tu Proprio tu Vieni qui da anni Scrocchi i miei contenuti Guardi le blind Senza abbonarti Vedi video su youtube Con adblock E non l'hai ancora preso Come devo fare con te Facciamo impazzire Feltrinelli Andiamo partiamo Capitolo 1114 Le ali di Icaro In che senso le ali di Icaro? Cioè siamo partiti Dalle ali del re dei pirati Alle ali di Icaro Che cazzo è questa mini avventura? Che cos'è? Il sacro pellegrinaggio Pellegrinaggio di Yamato Aspetta lo metto un po' più piccolo Così lo riuscite a vedere meglio anche voi Il sacro pellegrinaggio di Yamato La figlia dell'Oni volume 4 Ti chiedo di portare a termine Un pellegrinaggio per Akumai E riportare questa spada No Al santuario di Enma Ma la tomba di Ryuma? Deve portare la spada Alla tomba di Ryuma? Laddove riposa Yasu Ma deve portare la spada Alla tomba di Ryuma? E' bellissimo Ma veramente Guarda c'è anche la mappina C'è la mappina Cioè invece di andare diritta Deve fare Deve fare Deve fare Il cammino di Santiago Da Santiago di Compostela Alla tomba di Ryuma E' un attimo insomma Ma guarda Cioè per te Deve fare Deve passare per le montagne Deve andare nel villaggio Deve andare in un altro villaggio Poi passa Insomma dove Dove ci sono le Le prigioni Poi c'è la X Immaginatevi Io C'ho questo flash Davanti agli occhi Scusatemi Maestro Gli editor di Yoda Che vanno a scandagliare I forum Per i web Maestro Maestro Sono letteralmente Cinque anni Che lei Voleva Ha parlato Della tomba di Ryuma I fan ce l'hanno con lei Perché la saga di Zoro Zoro non è mai andato Alla tomba di Ryuma E Yoda dice Non vi preoccupate Ci penso io Facciamo una mini avventura Bruciamoci una mini avventura Il pellegrinaggio Di Santiago di Compostela Dentro One Piece Vabbè Capiamo In che cavolo di modo Può mai succedere Che il mondo intero Affondi Signor Genio Cioè io mi immagino Vegap anche Mentre racconta Il mondo affonda Parte pure la canzoncella Della sirenetta In fondo al mar In fondo al mar Il mondo finisce Tra a poco In fondo al mar Mentre i Musama Sta lassù Noi cena Andiamo sempre più giù E finiremo tutti insieme In fondo al mar Parappappappappappappappa... ... e loro ridono perchè stanno pensando anche a una roba del genere doppio splash page doppia... u! uu! uu! ce cazzo? uu! Motherflym! che cazzo è? oddio! che cazzo è? ma e tim... ma che? ma e' tipi una bomba con una fiamma dentro? e' e' ti tribe una bomba tomica con una fiamma? che be... che bello! E quindi tutte le teorie erano vere E quindi tutte le teorie erano vere E allora era tutto vero Quello che per vent'anni si è sempre detto Grazie a tutti